Nome. Mikhail Popkov. Soprannome. Il Maniaco di Angarsk. Vittime accertate. 78. Modus operandi. Armi bianche, tortura, stupro, necrofilia. Mikhail Popkov è nato il 7 marzo 1964 nella città di Angarsk, in Russia. Poco si sa della sua infanzia e della sua vita privata. Si sa che era sposato e che ha lavorato come ufficiale di polizia fino al 1998. In quell'anno, è passato di grado, diventando tenente minore. Ma sempre in quell'anno si dimetterà. La cosa ha reso i suoi colleghi di lavoro molto perplessi. Non sapevano il perché delle sue dimissioni ma lo descrivevano come un uomo per bene, positivo. Anche se talvolta era un po' strano. Non sapevano che era in realtà uno stupratore e assassino di ragazze. Dal 1998 al 2011 ha lavorato presso una società di sicurezza privata. Ebbene, in questo caso, i colleghi non lo descrissero positivamente. Si ipotizza che l'odio nei confronti delle donne, derivava da un episodio di adulterio da parte della moglie ai danni di Popkov. Infatti le sue vittime erano tutte donne e ragazzine, dai 16 ai 40 anni. A parte un uomo, un poliziotto. Erano facili prede in quanto erano per lo più prostitute o ragazze ubriache al momento dell'omicidio. Il serial killer utilizzava armi bianche come un'ascia, un coltello, un punteruolo, un cacciavite. Le ragazze venivano attirate dall'assassino con la scusa di una passeggiata e con l'aiuto della divisa, la quale rassicurava le vittime. Così il mostro le portava in un luogo isolato, le stuprava e le uccideva brutalmente. Alcune venivano colpite ripetutamente alla testa con un cacciavite dopo essere state tagliate da orecchio ad orecchio o sgozzate con un coltello. Altre venivano colpite a colpi d'ascia e fatte a pezzi o decapitate. Altre ancora venivano abusate sessualmente anche dopo la loro morte. Una sola vittima non è stata violentata. L'assassino la strangolò a morte con una sciarpa e la pugnalò ripetutamente. In un altro caso, la sfortunata fu stuprata, poi il mostro le squarciò l'addome per strapparle il cuore e successivamente bruciò il cadavere. Ha lasciato tutte le 78 vittime nelle foreste intorno a Angarsk. Tre delle quali furono ritrovare ancora vive, agonizzanti, ma morirono comunque dopo qualche giorno d'ospedale. La somiglianza degli omicidi, ha fatto subito pensare alla polizia che era opera di una sola persona. Un sadico, con un forte ed incontrollabile odio per le donne che non lasciava scampo a nessuna. È così stata formata una task force. Bisognava agire in fretta. Prese parte al caso anche il conosciuto Nikolai Kitaev, uno studioso e criminologo russo, che aveva lavorato come avvocato per la Federazione Russa. Un svolgimento alle indagini, sembrava averlo dato una ragazza, ritrovata nuda nella neve, in stato di incoscienza per le numerose ferite alla testa. La ragazza fu portata d'urgenza in ospedale e dopo qualche giorno raccontò alla polizia ciò che ricordava. Ricordava che un uomo, con l'uniforme della polizia, le aveva offerto un passaggio quel giorno. La ragazza accettò ma il soggetto ignoto la portò in una foresta e la costrinse a spogliarsi. La ragazza non voleva, così l'assassino le sbatté la testa contro un albero finché non perse conoscenza. Da lì il buio fino a quel momento in ospedale. Descrisse anche il colpevole. Ma non riuscirono comunque a trovarlo e Nikolai Kitaev, nel 2001, fu licenziato. Il caso si chiusse e rimase irrisolto fino al 2012. Quando la polizia decise finalmente di riaprirlo grazie all'esame di un campione di DNA trovato su una vittima. Riuscirono a trovare il colpevole, Mikhail Popkov. Nel caso sono stati condotti più di 300 esami forensi-medici e forensi, oltre 2500 studi genomici, e oltre 2000 testimoni sono stati interrogati. Ritenuto sano di mente, il giudico lo condannò all'ergastolo per gli omicidi di 78 donne. Dopo 18 anni di terrore, dal 1992 al 2010, il mostro era stato finalmente catturato.